Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme questo giovedì 40 minuti a parlare di rugby, di FEMICZ Rugby Rovigo Delta e non solo perché gli ospiti ci impongono anche di aprire nuovi spazi che noi esploreremo molto volentieri. Ospite, flanker della FEMICZ Rugby Rovigo Delta in completa versione Rugby Player 100% Edoardo Lubian. Buonasera a tutti. E dal mattino di Padova un amico di Rugby House, Simone Varotto. Ciao Simone, benvenuto. E buonasera a tutti. Allora Edo, calmiamo subito le mamme a casa. È successo niente di grave? C'è da fare una piccola incisione per essere anche più bello in futuro, no? Mi sentivo più bello con la benda, quindi... È l'ultimo trend del momento, se volete essere anche voi avanti, mettetevi la benda. Allora, Edo, parliamo subito della partita di sabato che è stata vista tra i protagonisti. I ultimi dieci minuti veramente di grande intensità, grande adrenalina, siamo riusciti a fare tre mette, soprattutto abbiamo vinto e portato a casa il bonus. Decisamente è stata una partita difficile, per fortuna siamo riusciti a venire fuori negli ultimi dieci minuti e portare a casa anche il bonus, quindi non potevamo chiedere di meglio. Sapevamo che Viadana era una grande squadra, molto forte in difesa e quindi dovevamo lottare fino alla fine. Ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa anche il punto in più, quindi siamo decisamente contenti della nostra prestazione. Ecco, la cosa bella è che quel punto in più è stato cercato e voluto. Proprio un effetto domino, no? Avete fatto la seconda meta, la terza meta e avete detto adesso ce la facciamo. Sicuramente ci ha dato motivazione queste mete una vicino a quell'altra, quindi ci siamo caricati per cercare di portare a casa anche il punto di bonus che per noi era decisivo per rimanere in testa della classifica. Per fortuna ci siamo riusciti perché le ultime sioni con un avanti poteva finire la partita, però bravi noi che alla fine ci abbiamo creduto, fino alla fine ci siamo riusciti. Ecco, il fatto di crederci, no? Non è una frase buttata lì. Prendiamo la tua meta. Un pallone, un grabber di Lucio Rodriguez, tu metti pressione, il giocatore Viadana sbaglia, tu sei pronto subito a segnare. La meta di Lucio Rodriguez, pallone che esce da raggruppamento, Matteo è lesto a capire che il pallone era libero, si lancia sul pallone, giochiamo questo vale e andiamo in meta. Sono piccoli accorgimenti che però denotano grande determinazione e grande volontà. Io non faccio tante mette nella mia carriera, quindi ho cercato di crederci fino alla fine. C'è stato un errore del loro estremo e ne ho approfittato. Quella di Lucio invece per me è stata più costruita, infatti abbiamo fatto più fasi ed è stato anche bravo Giovanni Iker che è nell'ultimo passaggio. Quindi quella di Lucio diciamo che l'abbiamo più voluta. Sì, ma sono quei piccoli dettagli, quel tipo di dettaglio che fa la differenza per una squadra come la nostra. Credo che con queste partite che sono tirate fino alla fine, anche come hai detto te, il minimo dettaglio può fare la differenza. Noi questa volta ci siamo riusciti a cogliere proprio alla fine la meta, in altre volte non ci siamo riusciti, quindi speriamo che sia... Che faccia quel click nelle nostre teste, no? E questo è fondamentale. È ovvio, come dicevi tu, sicuramente Verdana aveva imprestato la partita in difesa in maniera quasi impeccabile. Cioè ha studiato nei minimi passaggi, in tutte le chiamate, è stata molto attenta. Poi verso il settantesimo vuoi una panchina più lunga per Rovigo, vuoi decisamente anche la stanchezza nella difesa lombarda è uscita la squadra rosso-blu. Di certo, di certo, le entrate in campo tua, di Roberto Tenga, di Giovanni Iker hanno dato decisamente quello sprint in più alla squadra che probabilmente serviva anche per cambiare marcia e andarsene a allargare la forbice. Tu avevi una gran voglia di giocare però, Edo. Diciamo che avevo pochi minuti per farmi vedere quello che valevo e quindi ho cercato di crederci fino alla fine. Sono felice che mi diciate che ho fatto un pochettino, insomma, ho dato un po' la scossa e vi ringrazio. Dolubian è sempre elettrico direi, no Simone? È uno che si fa distinguere per i placcaggi ma non solo. Ve lo ricordate? Uno che dà le scosse, anche a partite concluse. È un messaggio, chiaro. Si è girato alla larga quando è venuto qui con l'Aquila, non si è nemmeno un crociato che sia chiaro. Sebbene lui abbia aumentato la propria massa, ha cercato di stargli in giro. Senti Simone, Viadana è una squadra un po' come il Petrarca che col tempo si sta plasmando, formando, sta ovviamente con delle qualità un po' diverse, sta prendendo un'identità più forte. Sì, Petrarca è una squadra sicuramente in crescita, soprattutto se pensiamo a come aveva esordito molto male nel derby day contro Rovigo giocato a Monigo, in cui era apparsa chiaramente inferiore a Rovigo, incapace di vincere le fasi statiche, inadeguata in molte situazioni di gioco. Problemi che sono proseguiti in parte anche nella seconda giornata contro l'Aquila, poi pian piano, probabilmente anche grazie ad alcuni input che sono arrivati dallo staff tecnico, Cavinato e Allori, la squadra ha assunto maturità, ha cominciato a responsabilizzarsi e ha cominciato a rendere sul campo e quindi adesso è una squadra che viene da sei successi consecutivi, che si trova a un punto dalla coppia di testa e che ha già battuto Calvisano e sinceramente riesce ad esprimere molto di quello che gli allenatori cercano di trasmettere. Sono cambiate un po' anche le linee di corsa fra i tre quarti, alcuni dicono che adesso sono più efficaci, probabilmente è anche soltanto una questione di entusiasmo che viene con la vittoria, per cui è un gruppo che aveva bisogno di una ricarica dopo tre anni di gestione di Moretti e Salvano e che probabilmente si sta identificando con quello che i nuovi allenatori cercano di portare. Adesso tra l'altro è arrivato anche un pezzo grosso per quanto riguarda la mischia con il seconda linea australiano Ed Gower che ha esordito subito Man of the Match a Piacenza, campo che non era facile perché avevano sofferto a Piacenza sia Calvisano sia Sandonà e Petrarca ha vinto con autorevolezza segnando quattro mete già a metà del secondo tempo, sbagliandone altrettante e che si presenta a poche giornate dalla fine del girone di andata come una delle protagoniste. Dicevamo che se il Petrarca vincesse col bonus contro la Lazio, Rovigo non vince col bonus a Roma e Mogliano batte Calvisano, Petrarca serve prima in classifica la prossima domenica, che è tutto dire per quanto è stato visto perlomeno nella prima giornata. A proposito di rugby andiamo immediatamente a vedere gli highlights di quanto è successo sabato scorso, qui è lo stadio Mario Battaglini, la vittoria della Femme CZ Rugby Rovigo Delta contro il Viadana. Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo stadio Mario Battaglini per il sesto turno del campionato d'eccellenza, far visita alla Femme CZ Rugby Rovigo Delta a Rugby Viadana. Con la sua spalla e col suo gomito sulla legatura dell'avversario per metterlo un po' in difficoltà. Ricordiamo che è quello che Alberto Ghilon dentro le 22, Gullo Zanini per vie verticali, ben fermato a difesa viadanese, raddoppiano tutti i placaggi loro. Eh sì, c'è una buona comunicazione fra Denis Majstorovic e Stefan Basson. Stefan Basson prova al drop, vediamo Stefi, se la mette. E la mette. E la mette, quindi al 27esimo della ripresa. Il fatto che adesso ci sia una grossa differenza tra una meta segnata e un drop, fa sì che il drop sia meno stimolato. Michele, attacca, attenzione, non ci voleva proprio doveva questo problema, non doveva finire lì. Oh! Ottima linea Michele, del nevo, eccoci qua. Un buon work rate perché abbiamo avuto un buon possesso, siamo stati molto nella metà campo di Viadana, abbiamo fatto solo sei punti. Respiro profondo, parte Stefan Basson dalla piazzola, mi sembra buona l'esecuzione. Si passa bene, passa e via. Bandi linea su. Nelle quali c'è un certo equilibrio, insomma, quindi devono essere portate a casa in un certo modo. Molto bene Steff, molto bene Steff. Rosso Blu, un buon drive, tra l'altro un primo blocco sicuro su Bernini, quindi da qui in poi è tutto un lavoro. Stiamo andando un po' indietro, bene la prima difesa di Viadana, ma noi dobbiamo avere pazienza, avere un buon avanzamento, ce l'abbiamo. Bene, 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 bene. C'è, 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 c'è. A lungo vediamo la trasformazione di Stefan Basson Molto 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 difficile Ma Lacuaglio dice Sì Darà per Lucio Rodriguez La pressione, attenzione No, no, no Purtroppo sì, ce la mette i Kiam Aperly Stoppando il calcio di Rodriguez E segnandoci una meta Mettere McCann a posto di Rodriguez Per cui è il primo ricevitore Va subito a percuotere la linea difensiva del Viadana Che è ottima nel placaggio Ottima nella ridistribuzione Tant'è che anche nella fase di Sia Come vedi sono ancora ben presenti sul campo Nonostante l'attacco di Bronzini Tra l'altro molto bene anche Roberto Tenga Prima nella sua percussione personale Giorgio Valimentani ancora per Tenga Che tiene lo scontro Ed è vincente anche in questa collisione Sebbene sicuramente il placaggio è stato molto molto forte Ha supportato, meglio sopportato Ecco Edo Lubian che si libera un avversario Gioca per Peppoli Maestorovic, Maestorovic Bravissimo a rimanere in campo Vediamo il reciclo C'è, 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 sì Arriva Perri, arriva Perri Tira sulla palla Forza Perri E cosa dice Tomossi? Metta, 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 metta Della FNCZ Raiq, Birovigo Delta Menon il 13 Sì, sicuramente sarà così Menon non ha difficoltà a giocare In entrambi le posizioni In pochi minuti Quindi sicuramente Anche questo ha aiutato un po' A galvanizzarsi nel gioco Per cui è arrivato Bravo, bravo, bravo Giovo per se stesso Giovo per se stesso Rimbalzo fantastico Vediamo che Corredorio prende Deve arrivare qualcuno di sostegno Deve arrivare qualcuno di sostegno Ce l'abbiamo Manteniamo questo possesso benissimo Andiamo a giocarla In realtà giochiamo Sefto con Bronzini Calcetto, calcetto Il Lucio Rodriguez Allargov Edo Lubian Mette pressione su Via Danese Pallone che era salita Edo Lubian Edo Lubian La meta di Edo Lubian Per cui possiamo crederci Insomma serve Perché Edo Lubian Non solo si è segnato una meta Oh, 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 oh Stefan, Stefan, Stefan Niente Niente Pallone libero È libero Bravo Matteo È il primo a lanciarsi su questo Possibilità Matteo Ferro Che riporta i rodicini Dentro i 22 Stefan Basson Vediamo Giovanni Michele Gallargo Lugio, 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 Lugio Lugio, Lugio, Lugio La quarta meta Andiamo Della Femmich Z Rugby Rovigo Delta Raggiungiamo il bonus Grandi festeggiamenti in campo Grandi festeggiamenti in campo È relegata a meno 4 Vediamo Stefano Vi ricordiamo che il prossimo match Stefano intanto non la mette Sarà a Roma contro le Fiamme Oro Un'altra grande partita Edo, venendo te La trasferta di Roma Ma Rovigo gioca A caserma Gelsomini Contro le Fiamme Oro Ho già visto il tuo sguardo Per dire Ci tocca andarla anche quest'anno Non è proprio tra le preferite La nostra squadra, no? È una trasferta sicuramente ostica Loro si identificano molto Con il loro campo Perché anche la superficie Dico Che è molto insidiosa Che ricordiamo è sintetico Sì, è sintetico Quindi per noi Ci aspetta un'altra prova importante Per il nostro cammino del campionato Sarà adesso in settimana Stiamo studiando le Fiamme Oro Per capire dove colpirli meglio Sarà molto difficile Perché andare a Roma E portare a casa la vittoria È sempre Insomma È una bella vittoria Noi non abbiamo mai avuto vita facile Con i ragazzi Se le Fiamme Oro Vuoi per un legame I certi giocatori I rovigo che sono là Vuoi per magari una difficoltà Proprio interna Nell'affrontare partite di questo tipo Cioè direi che le Fiamme Oro Simone Non è che stiano avendo un campionato così semplice Per un tuo background Petralchino e Padovano in genere È ovvio che la risposta più semplice che si possa dare È andato via Pasquale Ma questo insomma Sono in molti a dirlo Non è sicuramente il sottoscritto Bisogna vedere nel proseguo del campionato Rimane una squadra che ha un organico di professionisti L'unico? Alcuni dicono l'unico vero team professionistico al 100% in Italia Che ha fatto una campagna di acquisti di rinforzi notevole Insomma nomi alla mano Potrebbe occupare anche posizioni migliori Certo ha un piccolo handicap di partenza Perché nelle prime giornate non ha fatto bene Rimanendo alla squadra che seguo io il Petrarca Si è fatta battere in casa dal Petrarca Quindi c'è speranza anche per Rovigo E adesso pian pianino Personalmente che idea ti sei fatto? Delle fiamme a oro Probabilmente manca un po' di fame Rispetto alle scorse stagioni Che erano tutte di crescita Adesso è chiamata a dimostrare di essere una delle big del campionato Non dimentichiamoci che l'anno scorso L'accesso ai playoff fu vissuto Con consapevolezza Ma certo come una cosa imprevista Ad inizio del campionato Quest'anno la dirigenza E i progetti societari Sono sicuramente Di andare in semifinale E quindi c'è un doppio aspetto Un cambio tecnico E un ruolo diverso Da giocare in campionato Sai che personalmente Non sono così convinto Che la campagna acquisti delle fiamme oro C'è stata così suntuosa Nel senso È difficile rimpiazzare Benetti e Canna E loro secondo me Fino ad adesso non l'hanno ancora fatto E' quel sudafricano che hanno preso Non riesce a dare grosse sicurezze Certi elementi Forse non riescono a fare comunque Dare lo stesso apporto A livello di standard Rispetto a quanto succedeva gli anni scorsi Aggiungici Come dici tu La fame E' un imprinting diverso Un passaggio anche Importante è capire Che Presutti era un uomo libero E Eugenio E' un uomo della polizia di stato E quindi in equilibri interni Penso che sia un qualcosa Che conta parecchio Bisognerebbe probabilmente Conoscere meglio le dinamiche Più da vicino Insomma Questo sicuro Ma da esterno Però da esterno Lascia pensare effettivamente E' una cosa così Che mi veniva Sì pur parlay In fondo non c'è mica nessuno Che ci guarda Per cui era una cosa Molto interessante Può essere anche Che Eugenio Da come dire Allenatore che eredita Una squadra Comunque in crescita Abbia provato a forzare Qualche meccanismo Da subito Senza riuscirci Può essere perfettamente E che può introdursi In caserma In quella caserma Anche con quel numero Di giocatori Perché non penso sia nemmeno Sempre C'è molta C'è molta aspettativa Me l'hanno confermata La dirigenza del Petrarca Quando sono andati lì Hanno organizzato Super festa Accoglienza con i bambini Pubblico caloroso Insomma si vede Che puntano molto Eddo Hai sentito qualcuno Dei rodigini là? No Non ho sentito Nessuno Per ora Tu hai tolto Il numero di Bach Di marzo Sicuramente Però Bach Credo sia infortunato Certo Però io Tipicamente Non mi fido Di squadre Come le Fiamme Oro Andare là È sempre ostico E quindi Dovremmo andare là Al cento per cento Sia di testa Sia fisicamente Per portare a casa La partita Sono Sono quelle squadre Che riescono A trovare risultato Anche quando Le dai per spacciate Noi Testimone La finale Del trofeo Eccellenza E quindi Andiamo là Col cento per cento Della nostra testa Per cercare Di portare a casa Anche questa partita In realtà C'è una brutta domanda Edo Ti chiedo scusa In anticipo Parlavamo di rodigini Che se ne sono andati Quindi Bach Marci Altri Ovviamente Jeff L'anno scorso Andrea De Marche Da quando sei a Rovigo Chi è il giocatore Che ti manca di più Che è andato via O che vorresti fosse qua Cioè nel senso Magari a livello tecnico A livello personale Un giocatore Ti viene in mente Beh per amicizia Andrea De Marche Era mio amico Ci troviamo anche Fuori dal campo Però tutti Con tutti Ho avuto sempre Un rapporto di amicizia Quindi non posso dirti Uno in particolare Però con Andrea Insomma abbiamo condiviso Anche la giovanile E poi la prima squadra Quindi mi manca un pochettino Ecco Andiamo facciolettino Edo Lubian per favore Che ha bisogno di sostegno In questo momento No no Senti Ma no sono tutti uguali No non è vero che sono tutti uguali I compagni di squadra Sono tutti amici Più che altro Fin dalla giovanile Io con Backe Insomma era già in prima squadra Quindi Insomma siamo diventati amici In prima squadra Però con Andrea C'è sempre legato Un rapporto di amicizia Quindi Certo Beh questo Il rugby è anche questo No Simone Decisamente Amicizia E possibilità di Trovarsi dentro e fuori il campo Ecco Proseguiamo con questa giornata D'eccellenza Prima di vedere i servizi Che arrivano Dagli altri campi C'è un Mogliano Calvisano Che è decisamente Molto molto interessante L'anticipo di domani sera Alla Quaggia Simone Come la vedi? Ma intanto segnaliamo una cosa Mogliano è l'unica squadra Del campionato Che sul campo Non ha mai perso Cioè si trova Al quarto posto In virtù Di una sconfitta A tavolino Per Una sostituzione Insomma Un'entrata in campo Di un giocatore Non ancora tesserato Per un pasticcio E conseguente penalizzazione Altrimenti Si troverebbe In testa Al campionato E L'altro particolare Di Mogliano È che sta vincendo In questo momento Senza la sua apertura titolare Aristide Barro Forse l'avete saputo È stato coinvolto Negli attentati Di Parigi Per fortuna È stato solamente ferito E adesso pare sia fuori pericolo Però ancora non si sanno I tempi di rientro Senza la sua apertura titolare Mogliano Continua a vincere E Secondo me Come dire È una consapevolezza diversa Mogliano Secondo me quest'anno Io non so cosa pensi tu Ed Di questo Beh ci sono rinforzati molto L'anno scorso Sono andati via Persone importanti Però sono state rimpiazzate Con altrettante Di pari O forse Maggior livello Quindi Noi abbiamo perso Di un punto là E quindi È una squadra Sicuramente Che concorrerà Fino alla fine Fino alla fine del campionato Però con noi Vince di un punto Con le fiamme oro In 14 Regge tutta la partita Vuol dire che c'è Coscienza di sé Grande Grande convinzione Simone Probabilmente Galon Sta Insomma Ha anche qualche merito In questa In questi risultati Che gli stanno dando ragione Perché Di squadre All'altezza Ce ne sono parecchie Quest'anno Mi sembra Però non è semplice Ogni volta Contro ogni avversario Tirare fuori Il 100% Dai propri giocatori E in questo momento Lo stanno ripagando Alla grande Dall'altra parte C'è un calvisano Che Esce sconfitta Dalla sfida Con Petrarca Vince Quello che c'è da vincere Però è ovvio Che forse Internamente Qualche problemino C'è una gestione Tecnica nuova Ben Seymour Che va in spiagge In Australia Piuttosto che restare Nella bassa Bresciana Qualcosa Bolle forse Di dentro Sì anche qui È una situazione In cui C'è una panchina Che scotta Da ereditare Certo Brunello Ha delle qualità Innegabili E sono sicuro Che dal punto di vista Tecnico Ma anche dal punto di vista Di trasmissione Di valori agonistici Non ha nulla Da 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 dover imparare Però non è semplice Comunque gestire Un gruppo Due volte Campione d'Italia In cui Qualche pedina Probabilmente Non sta rendendo Come negli anni scorsi Poi ci sono stati Anche degli inserimenti Mi viene in mente Minozzi Un giovane Che è arrivato Da Padova Dal bivaio Del Val Sugana E che finora Sta facendo bene Altri probabilmente Un po' meno Un po' meno Una domanda Sei sicuro Di due scudetti consecutivi? Io no Andiamo a vedere dagli altri campi Ciao Andrea E ciao a tutti gli amici Di Rugby House Ci siamo Tra Qualche giorno Scenderete tutti a Roma Per vedere Il vostro Rovigo Giocare contro le Fiamme Oro In un momento davvero difficile Per la squadra romana Che viene dalla sconfitta Con il Mogliano Tra l'altro Maturata Nonostante i 70 minuti Di superiorità numerica Per l'espulsione Del pilone destro Il Rovigo Primo in classifica Sta facendo Al di là delle critiche Un ottimo campionato Arriva a Roma Forte appunto Della sua posizione E che può avere Come arma in più Sicuramente Una maggiore tranquillità Rispetto alla squadra romana Tanta tensione Infatti si è visto Al termine dell'incontro In casa Fiamme Oro Tanto nervosismo Sia da parte dei giocatori Sia da parte di Eugenio Tra l'altro Non particolarmente soddisfatto Dell'atteggiamento al vitrale Vediamo Cosa succederà Sarà una partita Delicatissima Una partita sicuramente Tutta da gustare Tra due squadre Che giocano Un ottimo rugby È l'anticipo del venerdì Va in diretta Rai Sport Dalle 19.10 Ma è soprattutto Il match club Della settima giornata Mogliano Calvisano Rappresenta ormai Da qualche stagione Un nuovo classico Partita che mette in palio Sempre punti importanti Per obiettivi importanti Ma che soprattutto Garantisce a pubblico E giocatori in campo Di vivere 80 minuti Di rugby vero Estetico fino ad un certo punto Ma vero di sicuro I Bresciani Arrivano al quaggia Con lo scudetto sul petto E da primi in classifica 25 punti Condivisi con Rovigo Frutto di 5 vittorie Di una sola sconfitta Quella per 12-11 In casa del Petrarca Alla terza giornata Per il resto Per Corso Netto E squadra molto ben messa in campo Dal tecnico Rodigino Brunello Bravo a calarsi Nella realtà giallonera Portando la propria visione Senza snaturare La filosofia un po' particolare Dell'ambiente Per Mogliano Che di vittoria Finquine ha collezionato Sul campo 6 su 6 Ed il capitolo Sulla sconfitta a tavolino Nel debito del primo turno Con Sandonai Di fatto ancora aperto Visto il ricorso presentato Gli organi di giustizia Del CONI Un test davvero importante Per una questione di testa E per motivi molto pragmatici Legati alla classifica Con il Petrarca Avanti di 6 punti Al terzo posto Che gioca in casa Un match sulla carta Piuttosto comodo Con la Lazio Ed il Viadana Diretto in seguitore In quinta posizione A quattro lunghezze Pronto ad approfittare Della gara interna Contro un Sandonai In piena crisi Per tentare l'aggancio Del sorpasso In zona playoff Archiviato l'episodio Infelice contro le Fiamme Oro Nel gerone di qualificazione Alla Challenge Cup Settimana scorsa I trevigiani Non saputo rispondere Sul difficile campo Dei poliziotti romani Con una prova Molto cinica Dimostrando di sapere Adattare il proprio rugby Laddove la situazione Richieda di concedere Meno allo spettacolo E più alla concretezza I tecnici gallone Properzi Devono misurarsi Con un'infermeria Piuttosto affollata Ma le buone notizie Provenenti da Parigi Da dove Aristide Barro Ha ripreso regolarmente I contatti con il club Annunciando di aver cominciato La prima fase Del suo programma Reabilitativo Con lo staff Dello Stade Francais E di voler tornare A Mogliano Già a gennaio Per proseguirlo Vicino alla squadra Hanno caricato Tutto l'ambiente Tutto il gruppo Vuole dedicare Un successo pesante Come quello contro Calvisano Al suo numero 10 Abbiamo sentito Gli altri contributi Simone Visto che sei qua È inutile Che registriamo Poi mandiamo Con la Lazio Cosa fa il Petrarca? Con la Lazio Il Petrarca Dovrà stare attento E affrontarla Come se si trattasse Dell'avversario Più temibile Più pericoloso Per come conosco io Questa squadra Tende sempre A Faticare qualcosa di più Contro le squadre Di Insomma Che le stanno dietro In classifica Non dimentichiamo Che la Lazio Arriva da una vittoria esterna Anche un po' imprevista In caso del Sandonà Che per quanto Non stia rendendo Quello che ci si aspettava Rimane una squadra Da rispettare E Quindi sull'onda di questo I Romani Sicuramente vorranno Ben figurare Petrarca deve cercare Assolutamente Non solo di vincere Ma di fare 5 punti Questo non sarà semplice Oltretutto C'è la particolarità Che Sarà una doppia sfida Quella con la Lazio Sabato in campionato La domenica seguente Per giocarsi Il primo posto Nel trofeo Nel girone di trofeo Eccellenza Potrebbero esserci Anche qualche ritorno In campo Petrarca sta giocando Senza Zago Dall'inizio della stagione E secondo me È un'assenza Che in parte pesa Nell'economia della squadra È un portatore di palla Come pochi Vedremo Vedremo se sarà Il momento Di reinserirlo In ogni caso Probabilmente Il reparto di terza linea È quello Che sta meglio Abbiamo dei giocatori Come Nostran e Conforti Che stanno rendendo Molto Nostran soprattutto È già stato Man of the match Due volte È rientrato Targa Larsen Magari non sta rendendo Proprio Al 100% Però è anche lui In crescita E con l'arrivo di Gower Sicuramente La Mischia Avrà un puntello in più Per avanzare E fare E creare Gioco La mediana Sua E Nicola Sembra che stia ispirando Più di qualcuno E secondo me Prova è anche Finora L'ottimo rendimento Di un giocatore Come Benetti Che ha un passato importante Ricordiamolo Prima con gli aironi Poi con le zebre Debutto in nazionale E poi si è rimesso in discussione Ripartito dalla serie A Per ritornare a giocare In eccellenza E nelle ultime giornate Sta facendo proprio bene Per cui Se spinge sui suoi punti di forza E non si fa distrarre Da altri pensieri Credo che Dovrebbe andare Tranquillamente Verso una vittoria Fermo restando Che la Lazio Va rispettata al 100% Ed è una squadra Che vuole Continuare a far bene Ecco Edo Annuiva Ascoltandoti Nei tuoi discorsi Perché comunque Ci sono delle amicizie Che travalicano Quello che è l'Adige Per cui vi sentite Immagino anche Fuori dal campo Noi ci sentiamo Fuori dal campo Però Concordo È una buonissima squadra Il Petrarca E quest'anno Sarà Sarà la quarta Sarà la quarta Il Petrarca La quarta nel senso Sarà il quarto team Di coloro che Probabilmente Si sfideranno In semifinale Hai parlato di Benettina Hai parlato di Targa Hai parlato di Giovani italiani Però Noi abbiamo sentito un po' Quelle che sono Le affermazioni di Gavazzi Riguardo al futuro Della nostra nazionale E quando sentiamo dire Che hanno preso Due sudafricani Con la prospettiva Di introdurli Prima le zebre Poi la bento E il nazionale Non sappiamo Se ridere o piangere Daniele per Vincenzi Tu Che fai? Ciao Andrea Ciao ragazzi No come da ridere C'è da piangere Qui le indicazioni Sembrano chiare Insomma Andiamo a prendere Due sudafricani Giovani Da formare Nel nostro rugby E poi equiparare E ora tutto il discorso Accademia Tutto l'investimento Che è stato fatto Sui nostri ragazzi Possibile che non ci siano Due seconde linee Sui quali investire Due ragazzi italiani Che possano ricoprire Quel ruolo Insomma Sembra essere una bocciatura Fra le righe Leggiamo questo Una bocciatura Nei confronti Della formazione Del progetto Accademia Zonali e nazionali Dove sono le nostre Seconde linee? Ce ne sono tante Storicamente Ne abbiamo formate Di meravigliose Da Giovanni Battista Croci Fino a Marco Bortolami Da Furno A Bernabò Ce ne sono tantissime Eppure in questo momento L'indicazione federale Sembra essere quella Non ci sono Non ci sono seconde linee Come le vogliamo noi Cioè seconde linee Alla sudafricana Le andiamo a pescare lì Bisognerebbe chiedere Gli amici sudafricani Se sono contenti di questo Perché proprio Durante la Coppa del Mondo I sudafricani Hanno un po' registrato Questo trend Cioè moltissime nazionali Si vanno a prendere I giocatori in sudafrica Se li portano a casa E poi li equiparano Ecco Questo è una tendenza Che non ci piace molto Noi vorremmo vedere Due italiani A loro meglio Insomma Che possono esprimere Anche un po' La nostra anima latina Nel gioco Perché di seconde linee Insomma Ne abbiamo fatte tante Ora Simone Prima parla della tua Nazionale Dei tuoi Le tue esperienze Al mondiale Che devo dire Che Simone Varotto È stato l'unico Tra i pochi azzurri Ad emergere Ai mondiali Di quest'anno E poi spiegheremo Che perché Cosa si può pensare Di queste affermazioni Di queste scelte Mancano due seconde linee Prendiamo in sudafrica Eccetera eccetera Brevemente Simone A me fanno un po' Impressione Nel senso Mi sembrano un po' Esperimenti da laboratorio Queste cose Pianificate Speriamo almeno Portino dei frutti Perché comunque È innegabile Che negli ultimi vent'anni Ci sono stati Dei giocatori Di formazione non italiana Che hanno dato Contributi importanti Alla nostra nazionale Quindi Non possiamo nasconderci Dietro a un dito E fare i verginelli In questo momento Però Come dire Negli ultimi Due tre anni Di cristiche Verso questo tipo Di progetti Ne sono state avanzate Molte E pareva ci fossero stati Anche dei momenti Di autocritica Invece Questo sembra Un passo indietro Questo dal mio punto di vista Soprattutto perché Un po' di soldi Con le accademie Ne spendiamo Per cui Edo Beh io credo Che stiano Che vogliono sostituire Galdenais Che ormai Ha una certa età E quindi cerchino Una figura Insomma Possente In seconda linea Però Un po' mi dispiace Perché anche Guardando il campionato Di eccellenza Per me Ci sono Queste figure Che potrebbero Figurare benissimo Anche a un certo livello Anche nella mia squadra Però Insomma Se A livello federale Si è lavorato così Lasciamo Lasciamo Il tempo Al tempo Questo sì Però è ovvio Che tu sei un giocatore E dici Io Che sono un 90 Che ormai è Sei anni Che gioco Cinque anni Che gioco in eccellenza E che qualcosa Anche me la merito Mi togliete Tutto l'ossigeno Mi togliete Tutta la voglia E anche di fare Qualche passo in più Puoi dire Quello che pensi Edo Non ci sono filtri Qui è casa tua Vabbè Io Lasciamo stare No Io tu rappresenti Il giocatore italiano Di 20 anni No Sicuramente Gente Con più potenziale Che In seconda linea Io ne ho visti tanti Qua in eccellenza Che Con una certa Insomma Fa qualche nome Che magari siamo anche Colpo Beh Quindi ce l'abbiamo su Tokyo Matteo Ferro Per me potrebbe andare Poi ci sono sicuramente Altre figure Insomma anche Gerosa Parlando del Viadana Però È indubbio Che In certe Parti del mondo Ci siano Culture Rugbistiche Superiori La nostra Qui La nostra Federazione Vuole Attingere Non posso Giudicare Questo Se mi porta Della gente Veramente Forte Che mi fa Vincere La nazionale Posso essere Anche contento Però A me Non piacciono Le vie di mezzo Cioè Giocatori Che non danno Non sono performanti Al cento Per cento Oppure Non so E quindi Mi piacerebbe Più un italiano Che Magari Dà Meno Però Insomma C'ha quella voglia Per Per Tutto il cuore Per Quasi è meglio Perdere con tutti Italiani Che vincere Contro il Canada Con qualche straniero In mezzo Potrebbe essere così Più o meno Più o meno Solamente Che se mi arriva Uno straniero Che veramente È forte Come ce ne sono stati Tanti Nella nazionale Italiana Che non posso Perché fa vincere Sai guarda Abbiamo Ritornando ai mondiali Che hai citato Poco fa È sotto gli occhi Di tutti Che in tutto il mondo Ci sono Delle squadre Che si avvalgono Di giocatori Cresciuti altrove L'unica squadra Che aveva Solo giocatori Nati e cresciuti In parte Era l'Argentina Certo E non a caso È probabilmente La nazione Più in crescita Da questo punto di vista L'Italia Insomma Però c'è C'è un problema Più grave Insomma Loro lo prendono Ha una forte cultura Di oriundi Però Come ti dicevo prima Dispiace che Si progetti a monte Cioè non Non si cerchi Nemmeno Di spingere Sull'acceleratore Dei nostri giocatori Dei nostri talenti Che rimangono Che ci sono Poi Si sa I sudafricani Hanno una fisicità Indiscutibile Indiscutibile Per cui se si cerca Veramente il gigante Da oltre 2 metri Per 140 chili In Italia Probabilmente Fai più fatica Dovresti andare a rubare In altri sport Però dopo Questa situazione Sfocia Al classic Perché Perché comunque Questo è il ragionamento Simone Ha appena giocato Con l'italian classic Alle bermuda E sono delle situazioni In cui dici Ma come Io gioco per l'Italia Aaron Persico Ha 40 50 caps Con l'Italia Però il classic Lo fa con gli all blacks E qualcuno Gli ha anche fatto capire No? Si Raccontaci che Tutto il mondo è paese E tutti i livelli Rugbistici Trovano poi La loro chiave Di lettura Anche in questo senso È successo Insomma Questo siparietto Ho avuto la fortuna Di giocare All'world classica Bermuda Nelle scorse settimane Invitato Da Andrea Moretti E E ho assistito A questo siparietto Tra appunto Aaron Persico Che vanta più di 40 cap Con la nazionale italiana Che è stato così Preso per le orecchie Da un altro ex nazionale Ed ex petrarchino In questo caso Piuttosto voluminoso Pier Giorgio Menapace Che gli ha così Insomma Rimproverato il fatto Di giocare Con gli all blacks classic E non con la nazionale Italiana Quindi lo prendeva Un po' in giro Ti faceva comodo Essere italiano primo Adesso Con Aaron Che cercava di difendersi Insomma È stato divertente Anche quello Ma onestamente Ho colto Un moto sincero Da parte di Pier Giorgio Menapace Ti ringrazio Ti ringrazio Insomma è stato un po' Una Fortunata Serie di Circostanze favorevoli Ho avuto la possibilità Di andare Grazie a un accredito Tramite il mio giornale Il mattino di Padova Le spese Questa cosa che è piaciuta Di faccia tosta Vinto della gente in coda Da regalargli dei biglietti Viva l'Italia A questo punto di vista Senza ombra di dubbio Gli inglesi organizzati Ma non reggono con noi Insomma una cosa veloce Un'immagine Di questo mondiale Che ti è piaciuto Che vorresti raccontare Un aneddoto Veramente Che anche per i nostri Telespettatori Può essere Piacevole ascoltare Guarda Ne prendo due Uno è stato Il momento In sala stampa In cui Era chiaro Che stava Per succedere qualcosa Di mai visto prima Cioè il Giappone Che minuto dopo minuto Mette il fiacco sul collo Resiste al Sudafrica E poi alla fine Vince E vi posso assicurare C'erano i colleghi Della stampa Di tutto il mondo Che Proprio presi Da Da un tifo calcistico Perché vedevano Che questa squadra Meritava la vittoria Al di là di tutto Ci ha creduto Fino alla fine E la E la vinta E E poi Personalmente Perché ero lì Ho avuto la fortuna Di entrare E vedere anche quel match Un altro match storico Inghilterra-Australia In cui Sinceramente Una nazione Che aveva preparato Un mondiale In casa Ha dovuto chinare La testa E togliersi il cappello Perché L'Australia Era stata palesemente Più forte Nonostante questo Con Immensa Immensa sportività Ha continuato L'Inghilterra E la gente Gli inglesi A spingere Su questo mondiale Perché era Veramente patrimonio Di tutti E credo Insomma Che i risultati Di pubblico Di copertura Media Gli diano ampiamente Ragione Mai raggiunti prima Siamo al termine Della nostra puntata Abbiamo fatto Un bel po' Di chiacchiere Insomma dai Simone Grazie per essere venuto Fino qui Grazie a voi Come sempre Edo Mi raccomando Sabato Cerchiamo di portare A casa la vittoria La caserma Gersomini Bisogna E non far andare Petrarchi in testa Soprattutto Buonanotte E a giovedì prossimo Grazie a tutti